Ciao a tutti, questo nuovo video con me è di Moon e oggi andremo a fare una sfida cioè incomincerò una serie dove farò tante sfide la prima sfida che mi ha suggerito un amico a scuola è stata quella di mangiare a ogni morte ogni morte, e io ne faccio tante chewing gum al miele e le sono andate a comprare apposta e più tic tac all'anguria l'ha detto il mio amico, non è colpa mia quindi oggi userò il momento che si sente il volume del microfono aspettate un secondo che qua ti puoi una cosa toglierlo toglierlo, ok l'ho tolto perfetto, ora possiamo incominciare possiamo incominciare con questa nuova sfida scusate per il cellulare ma lo metto su una cosa più stabile perfetto quindi trova partita mettiamo una bella demolizione dove si può morire tante volte quindi ti può diventare un lassativo umano se non peggio quindi sperando che me la trovi disattivo il wifi qua si sta il wifi al cellulare per là quindi sono osso, perfetto disattivo il wifi al cellulare, perfetto e ora mi dovrebbe trovare partita dovrebbe ecco, trovo già uno perfetto, sto aprendo il pacchetto spero di non morire tipo non so quante come stanno qua ce ne stanno già sei con lo mezzo aperto questo intero uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, quattro, nove, dieci spero di non morire sedici volte più quindi cominciamo già su downhill la mappa di id ti dimentico, visto che sto senza microfono quindi mi si non si 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 ho toccato il fondo non ho mai ancora giocato quindi ho aperto il primo pacchetto quindi tipo inizio già ad aprire l'altro anzi no se no spreco ancora 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 è la mia mappa preferita ancora ancora ok ok vabbè c 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 vabbè vabbè il mio emblema troppo figlio c e vabbè comunque se non lo vedete mi chiamiamo yahnesic Storm quindi ecco perchè storno una serie di punti bellissime ancora più belle vabbè anchor quindi vedo moscerini che mi stanno volando intorno senza nessuna ragione quindi mettiamo al graffiti ah quindi moscerini ti giuro se mi vengono ti vi giuro che se mi vengono moscerini in faccia mentre sto per uccidere uno lo vengono ahhh che schifo la bomba è innescata non giuro sto per vomitare non riesco diventare uno scogliatto non muore ma si bel lavoro preparatevi al prossimo round mmm mi sono mosso la lingua vabbè un giacchino a terra vabbè quattro morti tre campere camperiamo proteggete l'obiettivo suolto da notare l'unico fucile d'assalto che camperiamo che v pronto ah ok vabbè già vabbè 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 perfetto mi sono mi sono mi sono comunque ragazzi se mi sto zitto è normale perchè non gli voglio prendere un'altra gomma in bocca è arrivando qualcuno dall'altra parte avanza ok ah nessuno ok qual è un amico un nemico che cos'era ok smicciaggi in assoluta una cascchia arma scarica eh indietro esplosivi indietro un'altra uccisione attenzione uovi nemico in arrivo bigio e masticare il tutto la riga non mi no ricordate che ogni partita è il sputero non vale ragazzi mi stavo schifando ok bene oh ma cazzo ora sto manca per me ok dovrò abriar decisione confermata uno in meno UAV alleato in arrivo UAV pronto UAV di disturbo in arrivo l'ultimo nel paquetto UAV in arrivo posiziono infiltrazione tattica avv l'ultimo nel paquetto l'ultimo nel paquetto d'un rumore l'ultimo nel paquetto l'ultimo nel paquetto Non c'è nessuno, non c'è nessuno. grazie I parametri dell'obiettivo raggiunti Guarda che schifezza Quindi ragazzi Non è proprio perché non voglio sprecare un altro pacchetto Poi perché devo andare in palestra Quindi La mia buca sta soffrendo Sta soffrendo per voi Vabbè Ci vediamo la prima volta con un nuovo video di Le sfide di Emanuele Perché un amico che si chiama Emanuele Me la suggerisce Ci vediamo domani a scuola Emanuele Però Quindi Lasciate un commento qui sotto L'iscrizione è lo stesso Qua Si E Un like Esattamente Qui Quindi Quindi Ci vediamo la prossima volta Bella a tutti Ciao Ciao